Mi chiamo Paolo Barbetta e sono il responsabile dell'unità strategica della Fondazione Cariplo, cioè quel gruppo di persone che dentro la Fondazione si occupa di disegnare le strategie erogative e filantropiche di questo ente. La Fondazione Cariplo è una fondazione di origine bancaria, nata dalla trasformazione all'inizio degli anni 90 della Cassa di Risparmio delle province lombarde una legge in quell'anno indusse le banche a separare l'attività bancaria e a assegnarla a una SPA di cui le fondazioni tenevano il controllo. Le fondazioni si trovarono quindi con un patrimonio cospicuo pari al valore delle azioni della banca nella loro pancia e con una nuova missione, cioè quella di utilizzare le rendite di questo patrimonio per sostenere, finanziare, sperimentare progetti che generassero benefici per la società nel loro insieme. L'idea di fondo è, essendo la Fondazione un soggetto privato, senza fine di lucro, dotato di un ricco patrimonio, è in grado, più facilmente di quanto non possa fare l'ente pubblico piuttosto che un soggetto privato, di svolgere un ruolo pioniere, chiamiamolo così, nell'affrontare determinati bisogni sociali. Perché questo ruolo pioniere? Perché la fondazione può prendersi rischi che altri soggetti faticano ad assumere. Il caso del lausim sociale è stato uno di questi. Il problema era evidente, nel nostro paese la percentuale di alloggi pubblici in affitto è sensibilmente più bassa rispetto a quella degli altri paesi europei, siamo attorno al 5% quando altri paesi dedicano a soggetti deboli alloggi pubblici in misura pari al 20, al 30%. Quindi siamo di fronte a un bisogno sociale molto evidente. Da qui la decisione della fondazione è di creare un soggetto ad hoc, che si chiama Fondazione Housing Sociale, quindi provare a fornire risposte al problema dell'alloggio a condizioni economiche per soggetti che hanno bisogno di accompagnamento e via così. Mi chiamo Sergio Urbani, sono il consigliere delegato della Fondazione Housing Sociale, Fondazione che è sostanzialmente una società di scopo della Fondazione Cariplo. Abbiamo definito il perimetro della nostra attività come tutte quelle soluzioni abitative non disponibili sul mercato necessarie a soddisfare un disagio abitativo che non solo per ragioni economiche ma anche per assenza di un'offerta adeguata non trovava delle risposte. Successivamente abbiamo meglio definito l'obiettivo della nostra attività come quel segmento intermedio tra l'edilizia residenziale pubblica che vive di un contributo pubblico molto forte e oggi in progressiva riduzione e il mercato, quindi quella fascia grigia tra ERP, edilizia residenziale pubblica e mercato. Diciamo che oggi una giovane coppia, a differenza di 20 anni fa, non può comprare, non riesce a comprare un'abitazione nemmeno a prezzo convenzionato e non trova una risposta adeguata nemmeno sul mercato delle locazioni. In questo scenario l'housing sociale cerca di realizzare alloggi a prezzo di costo cercando di ottenere aree dai comuni, finanziamenti a tassi ridotti da banche, assicurazioni e altri investitori e progettare degli interventi che poi possono avere anche dei costi di realizzazione e di gestione molto efficienti per intervenire in questo segmento, in quest'area grigia tra ERP e mercato con un'offerta sostanzialmente a prezzo di costo. Queste sperimentazioni generano conoscenza, io credo che questo sia il valore fondamentale. In alcuni casi la conoscenza è una conoscenza astratta rispetto alla funzionalità di un certo tipo di intervento per trattare un problema sociale. In questo caso specifico è una conoscenza molto concreta, è la sperimentazione sul campo di alcune soluzioni, il fondo di investimento immobiliare, di alcune soluzioni concrete, i soggetti che andranno a gestire gli interventi immobiliari che dal fondo verranno realizzati, accumulando conoscenze e competenze che sono utili per la fondazione housing sociale che gestisce l'intervento, ma che ovviamente nello spirito delle fondazioni diventano quelli che gli economisti chiamerebbero un bene pubblico, cioè conoscenza disponibile gratuitamente a costo zero per tutti i soggetti che sono interessati a questo ruolo. Noi abbiamo iniziato seguendo delle priorità, prima il danaro perché è stato quello che ci ha dato voce nella proposta di innovazione, quindi abbiamo strutturato un fondo immobiliare che ha raccolto 85 milioni di Euro, che sono comunque una soglia, una massa molto rilevante, abbiamo poi cercato delle aree dove dare corpo a questa sperimentazione. Far capire a dei comuni che un fondo immobiliare poteva essere un soggetto attuatore nell'edilizia sociale è stato molto difficile. Nel 2005 incontrammo 80 comuni lombardi per poi riuscire a chiudere con due per dare una misura del tasso di insuccesso, più che di successo. Allo stesso modo le imprese edili e il movimento cooperativo e l'ex ACP ci percepirono come un potenziale invasore di campo, un potenziale concorrente, quindi dall'impianto del settore e degli strumenti di base. Oggi noi lavoriamo molto sulla qualità sociale degli interventi e sulla costruzione della comunità, che è il vero prodotto, perché soldi, finanza, fondi, urbanistica, architettura sono degli accidenti per arrivare alla comunità, quindi è un contesto dove la gente è viva, sviluppi delle relazioni e trovi un modo per progredire invece che regredire. C'è la sfida della cosiddetta mixité, cioè della capacità di non creare ghetti, ma di tenere assieme soggetti con problematiche, ma anche con risorse e potenzialità differenti, c'è la sfida di aprire queste comunità ai territori dentro le quali le stesse vengono realizzate, c'è la sfida di comprendere se queste comunità saranno esse stesse in grado di gestirsi e autogestirsi o se e in che misura avranno bisogno di una guida o di un soggetto esterno che le aiuti a svolgere questo ruolo. Da questo punto di vista le esperienze di soggetti esterni italiani sono ancora molto embrionali, molto piccole. La vera sfida è quella anche più difficile, invece secondo me è quella dell'edilizia residenziale pubblica. L'altra sfida credo è quella tradizionale, cioè le fondazioni come soggetto innovatore hanno un senso se dall'altra parte abbiamo un policymaker attento a quello che le fondazioni fanno da una parte e soprattutto che decide di svolgere, di realizzare politiche, gli inglesi direbbero che sono evidence based. Purtroppo da questo punto di vista in Italia siamo molto indietro, siamo molto indietro nella valutazione tradizionale delle politiche, siamo abbastanza indietro ancora nella relazione tra ente pubblico e soggetto fondazionale. Quindi l'Italia è indietro, molto indietro, vent'anni indietro, però ha delle risorse a livello proprio sociale disperse nel territorio, nei vari livelli della società che inducono l'ottimismo ma soprattutto chi arriva dopo in genere può fare tesoro degli errori di chi l'ha fatto prima. Quindi una capacità di lettura delle esperienze di altri paesi che sono più avanti ci può permettere di sviluppare un sistema dell'edilizia sociale che sia in qualche modo anche più intelligente perché gli errori li hanno fatti da altre parti. Alcune sperimentazioni da questo punto di vista in Fondazione Caripro le stiamo avviando legando, coinvolgendo il policymaker pubblico o privato sin nelle primissime fasi di definizione delle politiche in maniera tale da avere un ragionevole grado di certezza che una volta che queste abbiano prodotto le loro evidenze, positive o negative, il decisore sia poi in grado di utilizzare la conoscenza che viene generata per disegnare le politiche. Ma questa credo resta la sfida fondamentale.